Ciao a tutti ragazzi e ben tornati su Facciamo Cinema. Sono passati 13 anni e finalmente è arrivato il primo teaser trailer di Avatar 2, La via dell'acqua, sempre diretto dall'impeccabile, dall'epico mastodontico James Cameron, che secondo me non ne sbaglia una ora. È sbagliatissimo giudicare un film dal teaser, dal trailer, dal secondo trailer, però lasciatemi dire che ho visto delle scene favolose, di un'estetica che secondo me possono, e non so come, forse grazie alle nuove tecnologie che Cameron metterà in campo, superare addirittura il suo primo Avatar del 2009 ed è una cosa che veramente solo lui può fare, solo lui può uscire dopo 13 anni con un film ancora più bello del precedente, ma soprattutto far passare così tanto tempo, che è un tempo lunghissimo, un regista medio, in quell'arco di tempo, in quell'asso di tempo, fa uscire, se riesce, circa 5-6 film, a volte anche di più Bergman. E invece lui è l'unico che può permettersi di far passare veramente una decade, anzi, quasi 15 anni, e far uscire un nuovo film senza andare in perdita, senza sbagliare un colpo, perché veramente quelle scene sono di un'estetica spettacolare, ne lascio alcuna, soprattutto quelle ambientate nel mondo marino, ci troviamo sempre a Pandora, quindi l'ambientazione del primo film, ed è un piacere per la vista. Io non vedo l'ora, l'ho visto da uno schermo di un telefono, quindi non è esattamente il top, però non vedo l'ora di vederlo in sala, perché deve essere un'emozione unica. James Cameron, veramente, non ne sbaglia una, è uno che può prendersi tutto il tempo che vuole, è uno che veramente sa quello che deve fare, sa come si fa il suo mestiere, lo dico da sempre, ma già dai tempi di Terminator, anzi, non so, non si sa se è suo, ma già dai tempi di Piranha Paura, comunque, secondo me, si capiva che sarebbe venuto fuori un grande regista. Poi quel film non si è mai capito se era suo o no, però insomma, con Terminator ha dato la dimostrazione di essere veramente un grande, secondo me, con questo Avatar 2 arriverà al pari di Kubrick, e ci ho pensato tante volte sopra, prima di fare questa affermazione, ma secondo me un regista così se lo merita. Una cosa interessante è che se Avatar 2 e 3 avranno successo, rilasceranno anche il quarto e il quinto film, e diventerà quindi una saga composta da cinque capitoli, dove in realtà, e questa è la grandezza di Cameron, ogni episodio, ogni capitolo sarà autoconclusivo, quindi non diventerà la solita telenovela alla Star Wars, che per quanto io ami, Star Wars comunque è una telenovela alla fine. Quindi, la storia nel secondo, nella via dell'acqua, comincia e finisce, e così sarà per il terzo, e se ci saranno, per il quarto e per il quinto film. E secondo me, anche questa volta, Cameron ha fatto centro. Comunque, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate, perché sono veramente curiosissimo. Sono 13 anni che aspettiamo questo film. Oh, quindi, fatemi sapere se lo andrete a vedere, penso di sì, penso che ci saranno le sale piene. Ecco, una cosa che purtroppo, ma questo non è colpa di James Cameron, non è colpa di Avatar, una cosa che purtroppo mi dispiace è vedere le sale piene solo in queste occasioni. Quindi, quando arriva un film di questo tipo, un grande evento, come un film della Marvel, un film di Star Wars, un film di Avatar, appunto, questo un po' mi dispiace, ma non è colpa assolutamente né del regista, né di questo grande film, che secondo me sarà Avatar 2. Quindi, andate al cinema a vedere tantissimi film, andate a vedere anche Avatar 2 a dicembre, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdervi nessun video, e se volete mettete anche un mi piace. E noi ci vediamo in un prossimo video, sempre qui, su Facciamo Cinema. Ciao!